E potete collegarvi alla Patria Federale Fermo 1 e andare a vederci, ascoltarci, vederci, insomma fare un po' quello che volete anche con questo nuovo mezzo, questa opportunità di vedere oltre che ascoltare la radio. Allora, allora cara Matilde, parliamo di, tu sei la curatrice di questo evento, di questa mostra che è stata aperta lo scorso sabato 7 dicembre all'ex chiesa di Ogni Santi a Fermo e è una mostra che si chiama Affiorare, no? Allora, innanzitutto abbiamo tantissime cose, proprio della partecipazione della Savelli Ascensori, non è scontato perché non è una semplice sponsorizzazione, ma fa parte proprio del concetto stesso di arte e dell'evento, di cosa si tratta? Allora, innanzitutto possiamo chiamarlo sponsorizzazione, ma una sponsorizzazione attiva, non passiva, ovvero lo sponsor mette dei soldi e finisce lì, in questo caso lo sponsor ha partecipato attivamente alla realizzazione della mostra, ovvero l'opera è stata fatta all'interno degli spazi di la Savelli, ma non come meri produttori meccanici dell'oggetto in mostra, la scultura in mostra, ma questa opera d'arte è il frutto di più sopralluoghi effettuati dagli artisti negli spazi della Savelli, in tutti gli spazi, da quelli menageriali agli spiazzi proprio del lavoro pratico, il dipartimento di taglio laser, il dipartimento di elettrotecnica, eccetera, eccetera, quindi una stretta frequentazione e attenzione rispetto a cosa si fa là dentro. Dunque, gli artisti sono riusciti a individuare quello che è forse l'aspetto appunto che a volte ci sfugge di più all'interno di un'impresa, che poi è l'aspetto poetico del fare umano, del fare anche aziendale, che poi con la quotidianità si perde, in questo caso è la dimensione dell'elevazione, un gesto super leggero, delicatissimo, ma che loro fanno costruendo dei macchinari che pesano tonnellate, no? In un hangar enorme. Bello, bellissimo questo, che è un, tra virgolette, una contraddizione, no? Un elemento industriale pesantissimo, però... Un paradosso sostanzialmente. Esatto, un porta in alto. E che ci fa sentire leggeri, ci fa librare, no? Wow. È una cosa molto bella. Mi viene in mente la scena di Willy Wonka dove con l'ascensore... Certo, esatto, certo, sono andata in Fondazione Prada la settimana scorsa e c'è questo grandissimo ascensore... Sì, bellissimo. Esattamente, e pensavo a Savelle e dico cavolo, loro fanno questo e ho sentito anch'io l'anima, no? Al di là del lavoro manuale e gli artisti hanno individuato appunto questo aspetto, sono tornati, non so, per la quarta volta negli spazi Savelle e hanno detto ok, noi abbiamo immaginato questo, può piacervi e... Quindi, di fatto, la grande novità è che è una mostra, poi diremo anche i nomi degli artisti, ce li presenterai, che non... Cioè, questi artisti non è che avevano le opere nei loro laboratori, le hanno prese, le hanno portate, è nata la mostra, ma sono state create ad hoc per questa mostra, no? Esattamente, esattamente, e non solo, gli artisti, io avevo già deciso di chiamarli e invitarli a fare una mostra, sono stati loro a chiedermi ma ci sarebbe per caso un'azienda interessata a fare questa cosa? Ho detto ah, forse ce l'abbiamo, abbiamo chiesto a Savelle con cui già avevamo un contatto, no? In precedenza e nelle persone poi, nello specifico di Beneditta Savelli e Alice Savelli, hanno subito accolto con entusiasmo quest'idea, dicendo, vediamo cosa succede, no? Non è una cosa semplice che venga accettata l'arte così su due piedi. E invece loro hanno accettato e da qui è partito poi tutto quanto. Bello, bellissimo anche il titolo di questa mostra, la fiorare e allo stesso tempo anche il luogo, la location non è casuale, vero Matilde? Assolutamente, la location non è casuale perché è una chiesa, c'è scritto infatti ex chiesa, era una chiesa, una chiesa oltretutto che conteneva un affresco, una Madonna del Latte del XV secolo che adesso si trova in Pinacoteca qui a Fermo e che è stato staccato negli anni 60 quando quel luogo è diventato un laboratorio, da chiesa a laboratorio artigianale. L'ultima destinazione è stata per una fabbrica di esche per la pesca, l'escaplast di Stanislav Kuskiewicz, una ditta anch'essa tanto conosciuta ma dimenticata nel momento in cui è morto il suo fondatore e nessuno poi è andato avanti. E quindi abbiamo un po' riscoperto anche non solo una chiesa ma anche questa dimensione del fare, ci piaceva legarla appunto a Savelli. A questo luogo. Esatto, sembrava sublimare un po' tutto quanto il progetto in qualche maniera. Che bello, bellissimo, sì perché poi a volte ecco c'è una storia molto bella, tra l'altro è raccontata anche un po' nel pezzo che abbiamo messo su Cronache ma poi avremo modo anche di riparlarne. Senti, ma abbiamo parlato di tutto tranne che di loro, chi sono gli artisti? Allora, gli artisti, il duo si chiama Ornaghi e Pressinari, sono Valentina Ornaghi e Claudio Pressinari, hanno 34 e 36 anni, sono di Ro, vicino a Milano e hanno una formazione conseguita al Politecnico di Milano e quindi all'OIO di Venezia. Quindi hanno una formazione molto pratica, fattuale di architettura eccetera e sono dei ragazzi molto giovani ma sono degli artisti che hanno già diciamo un riconoscimento piuttosto importante. Una loro scultura è presente per esempio a City Life, questa nuova zona abitativa di Milano dove la loro opera è sotto i palazzi di Zadid e di Libeskin. Hanno fatto appunto una mostra poco tempo fa a New York, molto bella, nella Casa Cultura Italiana, quindi hanno un bel riconoscimento durante una delle più importanti manifestazioni d'arte italiane, artissima a Torino. Hanno fatto un laboratorio per bambini fatto dalla Juventus, quindi loro sono stati diciamo gli artisti della Juventus. Insomma sono dei ragazzi in gamba che hanno una ricerca a mio avviso molto bella e che si legava molto bene ancora una volta con l'azienda perché comunque loro lavorano molto sui materiali. Esatto questo ti volevo chiedere quali sono perché poi il materiale rappresenta spesso anche quello che caratterizza un artista. Perché sappiamo che è il materiale grezzo che viene già poi rielaborato e di fatto dal blocco grezzo l'artista già vede quello che dovrebbe accadere. E loro cosa hanno usato? Quali materiali hanno scelto? Allora in questo caso si tratta di acciaio e carta perché posso entrare nello specifico del lavoro? Si tratta di un macchinario molto pesante che richiama i tavoli da lavoro e che ha la parte del piano, la superficie che compie un movimento, si apre come in un gesto di apertura, di offerta e presenta un biglietto di carta con un piccolo pop-up di erbe spontanee che è come un biglietto d'augurio, un fiore di carta che viene porto attraverso questo movimento. E loro è sembrato quello che fa la Savelli, questo dono di produrre un movimento così leggiadro con un macchinario imponente fatto appunto utilizzando dei materiali pesanti, del lavoro duro che invece appunto vanno a lasciare fiorire un gesto delicato. Bello, e senti quante opere sono esposte? Cos'è un percorso? Parliamo proprio dell'allessimento. Ok, dunque si tratta, ci sono poche opere, lo spazio è l'unica aula che era della chiesa e dunque dopo è diventata lo spazio del laboratorio. Ok. Ovvero strumenti del fare pratico e vi spiego perché. I ragazzi, questi artisti ripeto amano molto il fare pratico, loro hanno un bellissimo laboratorio con tutti gli attrezzi in vista che loro curano come se fossero le argenterie di casa. Questa serie di disegni, queste punte, si chiama proprio argenteria, è il loro servizio buono che loro diciamo offrono poi a chi viene a vederli, a trovarli. E come tutti noi abbiamo l'oggetto caro che può essere una spilla, non è necessariamente prezioso in termini di valore economico, ma l'oggetto caro può essere l'oggetto che noi sentiamo più vicino al nostro essere più profondo. In questo caso le punte di trapano. La serie è composta da 12 punte che sono le punte del fare. Senti, ma sono curiosissima, io mi fiondo a vederla. Senti, quali sono gli orari di apertura? Così intanto li sappiamo. Dunque, la mostra è libero, no? Assolutamente ci tengo tantissimo perché tutti i progetti fatti sono a ingresso libero che per me, devo dire, è proprio motivo di vanto perché credo che la cultura sia generosa. E anche l'accessibilità all'arte che viene vista come, o meglio, allora due elementi perché io ho in famiglia storice là quindi capirai che, allora, da una parte bisogna avere la consapevolezza che a volte, per esempio per un museo, pagare un biglietto è importante perché comunque significa anche dare un valore al lavoro, di allestimento eccetera eccetera. Dall'altra però è importante ecco che venga garantita la fruibilità a tutti dell'arte, no? Quindi anche utilizzando, poi ci sono diverse correnti di pensiero, però utilizzando i nuovi social, i nuovi media, diffonderla per creare curiosità verso chi non ha un approccio in questo ambito. Esatto, devo dire che in questo senso questo progetto è proprio ben riuscito, ho avuto dei feedback positivissimi perché basta solo essere cortesi, gentili e parlare delle cose e anche chi magari non riesce bene a inquadrare l'arte contemporanea comunque ha gli strumenti per farlo, quindi perde il timore di solito che si ha verso l'arte più contemporanea, viene, vede le mostre, capisce che sono molto vicine al proprio sentire, al proprio tempo. E quindi la stessa cosa è successa anche all'interno dell'azienda stessa, c'è stata una partecipazione crescente, un coinvolgimento appunto dalle stesse Beneditta e Alice e tutto quanto lo staff e voglio spendere solo un attimo appunto una parola per le maestranze che l'hanno realizzata praticamente, quindi proprio il tecnico che ci ha seguito passo passo veramente in ogni singolo angolo di quella scultura. Comunque è un'esperienza non quotidiana, cioè è unica per un'azienda del genere, quindi credo che sia per loro. È stato molto bello, sì, volevo ringraziare Luigi perché ci tengo tantissimo perché veramente ha fatto un lavoro incredibile, chiaramente Savelli lavora a livelli altissimi e è una ditta veramente… eccellenza locale è giusto valorizzarla e ovviamente abbiamo avuto appunto un'attenzione, una cura e poi un crescere di curiosità rispetto a quest'opera, all'arte che è entrata in azienda e alla fine è diventata parte dell'azienda. E' una cosa bella, noi abbiamo l'esempio virtuoso nelle marche di Elika, della Elika di Fabriano e della Fondazione Casoli che lavora da vent'anni ormai con l'arte contemporanea. Quindi credo che questo passo fatto da Savelli in questo senso sia veramente molto 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 importante, cioè è stato un gesto e che appunto ha avuto un feedback estremamente positivo. E poi va al di fuori anche del panorama locale, nel senso che è un evento a tutti gli effetti nazionali che si inserisce anche in un percorso che tu stai seguendo anche con la tua professionalità, no? In giro per l'Italia. Sì certo, io comunque sia mi occupo di arte contemporanea, insegno in Accademia Albertina a Torino e lavoro diciamo con l'arte contemporanea spinta, ovvero mi piace lavorare con artisti viventi, io ho una formazione da storico d'arte comunque sia, però lavoro molto con artisti e con giovani artisti. Adesso anche a Torino ho dei progetti legati a degli spazi indipendenti torinesi e diciamo che sì, insomma è una cosa che appunto mi piace molto fare, quello di dar voce soprattutto alle nuove ricerche perché mi danno modo di vedere e di poter anche offrire a chi poi vede quello che faccio, quello che si sta costruendo in questo momento. Senti ma secondo me hai un bellissimo compito e ruolo, ovvero tu giri l'Italia e non solo, no? Anche alla scoperta di quelli che possono essere nuovi artisti, no? Perlomeno artisti che si espongono nel panorama dell'arte contemporanea, arrivi tu e dici, però? Curioso. Curioso e inizi a lavorare con loro, a contattarli, immagino a dar vita a dei progetti come è avvenuto in questo caso, no? Sì esattamente, funziona esattamente così, devo dire e ne abbiamo parlato in una lezione qualche giorno fa con i miei studenti dell'importanza dei social in questo senso, il primo approccio avviene sicuramente vedendo mostre ma non si può essere il dono dell'ubiquità, non l'abbiamo e Instagram è molto utile perché gli artisti immettono i propri lavori, certo chiaramente c'è un'esperienza precedente per cui io ho un po' l'occhio abituato e più o meno poi ognuna. Li vedo lì, poi li contatta, ci vediamo in studio, vado a fare una studio visit e si chiacchiera e quella è la parte più bella, cioè quando si costruisce il rapporto con l'artista, io ho sempre detto vivrei dentro gli studi degli artisti perché veramente, cioè noi non scopriamo niente, l'artista già c'è e di solito sono altri artisti a individuarli prima di chiunque altro, è molto bello, sì. Guarda mi ricordi un percorso che ho fatto io di avvicinamento all'arte ma ti parlo di anni fa perché andando a vedere l'arte contemporanea soprattutto da profano a volte dicevo la classica frase che dicono tutti, potevo farlo anch'io e mi hanno regalato un libro di Francesco Bonami, potevo farlo anch'io e mi è cambiato il mondo. Anzi se avete modo, adesso non è una pubblicità ma leggetelo perché a me mi è stato consigliato da, ma immagino che tu l'hai letto, l'avrei fatto leggere, però è un, apri un mondo perché di fatto dopo quel libro ho iniziato davvero ad apprezzare e anche conoscere e capire meglio quella che è l'arte contemporanea. Sì assolutamente, guarda potevo farlo anch'io e allora come mai non l'hai fatto prima era la risposta di Bruno Munari diciamo, quindi a chi lo diceva, ma è normale dirlo però il punto, quello che dico sempre quando qualcuno mi alza, solleva questa critica no? Dico sì, adesso per noi è più semplice riconoscere la primavera dei Botticelli come un'opera d'arte perché è ormai chiaro a tutti che è un'opera d'arte, ma se io ti chiedessi in questo momento dimmi la data della primavera e dimmi di cosa parla. Tutto quanto quindi l'impianto iconografico, iconologico. Io sono uno storico d'arte, ho studiato queste cose per numerevoli volte eppure non riesco a ricordare, non ho gli strumenti, vedo che ci sono delle belle figure, c'è una bella composizione eccetera, ma il valore di quell'oggetto non è solo quello, no? Con l'opera d'arte contemporanea a volte, dico io, è più facile perché comunque parla del nostro tempo. Quando io ti do quelle due indicazioni e quando ti senti a tuo agio e non sei prevenuto, no? E pensi, è solo quello? Ah sì, è solo quello, no? È un movimento, è un gesto, è solo quella la ricchezza di quell'opera? Sì, godi di quella poesia, no? Allora funziona. In alcuni casi è davvero emozionale, no? Nel senso che un approccio, tra virgolette, primitivo verso l'opera permette di viverla nelle emozioni e non da tecnico, quindi forse è un linguaggio immediato. I bambini riescono benissimo in questo, infatti. Sono i migliori, io ho due figlie di 6-8 anni e devo dire con la mamma storico d'arte e il papà artista, sicuramente... Rispetto, non so, un'opera rinascimentale in tutta la pomposità, qui c'è un aspetto più emozionale, più immediato, no? Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Però è quando poi la si vive e, ripeto, non ci si sente spaventati, no? Non si ha l'ansia da prestazione, allora si riesce benissimo a leggere. Chiunque, chiunque davvero può sentirla nel profondo, può anche non piacere, ma come a me tanta parte del rinascimento non piace, per esempio, no? Io preferisco il rococò al barocco. È assurdo, no? Ma quello poi entra in merito del gusto personale, no? È vero, è vero, è vero. Di qualità, non sono questioni di qualità. Senti, allora, torniamo alla mostra, perché io potrei parlare con te fino a domani mattina. Tornando alla mostra, quindi, ricordiamo un po' l'apertura per chi volesse andare a visitarla, diamo qualche consiglio su come e quando andarla a vedere. Certo. Allora, la mostra innanzitutto sarà aperta fino al 7 di gennaio. Stiamo valutando una proroga, perché abbiamo avuto delle richieste, quindi vediamo se mai sarà comunicata questo cambio di data. Noi siamo aperti su prenotazione la domenica pomeriggio alle 17.30. È una necessità, poiché appunto, sono io a fare le visite guidate, mi fa piacere poter offrire la visita della curatrice ogni volta. È un valore aggiunto anche per chi viene a vederla, no? Sì, ho notato che veramente è molto importante. D'altronde insegno da dieci anni e insegno anche a studenti stranieri, quindi effettivamente magari riesco a semplificare un pochino concetti che possono essere più… Sicuramente abbiamo anche fatto una buona formazione alle persone che ci aiutano. Volevo un attimo ricordare la persona che mi ha aiutato tantissimo, soprattutto per le ricerche storiche che riguardano la chiesa, Lidia Martorana, che si è occupata di tutto questo aspetto che non è trascurabile proprio perché non c'erano notizie. Sul catalogo della Pinacoteca risulta una chiesa fondata nel XV secolo, invece lei ha scoperto, ha trovato l'atto di fondazione del XII secolo. Quindi ci tenevo anche a dire che è stata veramente un grandissimo… No, è bello, ma è traspare questa grande passione quanto tieni a questo progetto proprio da come ne parli, da come lo racconti, no? È stato anche molto bello lavorare con Savelli perché veramente ho trovato un dialogo apertissimo, una disponibilità, quindi è stata proprio molto confortevole. Però lascia anche una prospettiva per il futuro perché siamo un tessuto, una regione, no? Poi ovviamente tu sei martigiana, sei di qua. Io sono a San Giorgesi. Sei di Porto San Giorgio, quindi insomma chi meglio di te conosce anche il nostro territorio. Però siamo ricchi di aziende di tutti i tipi, no? Certo, assolutamente. Pensiamo dall'esempio di Savelli, ma poi vabbè con la calzatura ci sbizzarriamo, oppure la moda, i cappelli, la lavorazione del legno, del ferro battuto. Quindi potrebbe essere la prima di una lunga serie, so che c'è stato già un precedente se non sbaglio, no? Con un'azienda di conceria? No, allora no, no, no. Quello l'avevano fatto gli artisti a Santa Croce sull'Ario. Ah, ok, quindi è un'altra cosa. Sì, 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 no, sarebbe molto bello, sicuramente proveremo a lavorare in questo senso e sì, trovo che possa essere molto bello riuscire a entrare con l'arte all'interno appunto della dimensione lavorativa perché credo che possa essere una bellissima esperienza. E questo è un'esempio, quindi se potete andate a visitarlo, guarda, c'è una pagina Facebook o qualcosa per, oppure un, io posso dare il numero di telefono per le prenotazioni. Certamente, credo che ci sia anche il link a una pagina Facebook. Abbiamo anche Instagram e trovate tutto quanto nella vostra pagina Facebook sicuramente. Sì, poi anche su Cronaca e Fermane basta digitare, affiorare o comunque il nome Matilde Galletti sulla ricerca. Noi siamo convenzionati con sistema museo, quindi per chiunque, insomma, a necessità abbiamo anche… Per le prenotazioni basta, quindi rivolgersi a questi, il numero è 340-41-32-787, ma adesso uno sta in macchina, sta a casa così un attimo… Brava, va su Facebook, andate su Facebook, andate su Cronaca e Fermane, esatto, perché sono veramente utili. Senti, ma tu sei di quella corrente che no foto ai musei oppure benvengano le foto ai musei per diffondere l'opera? Esatto, perché anche io le conosco, per me è veramente utilissimo perché, ripeto, non si ha… Senza flash? Esatto, senza flash o con garbo, come tutte le cose. Con garbo, discrezione, ma benvenga perché credo che è un altro invito, come dicevi tu, l'importanza anche dei social per l'arte. Esatto, assolutamente. È quella di diffonderla e di creare curiosità, no? Esatto. Esattare chi non sarebbe mai venuto perché non interessato invece a dire, oh, voglio andare a vederlo, no? Sì, assolutamente, ripeto, non vanno demonizzati né vanno utilizzati in maniera veramente aggressiva, inconsapevole, ma possono essere un ottimo strumento. Io posso dire che li ho trovati assolutamente un ottimo strumento in questo senso. Bene, bene. Senti, hanno mangiato la banana di Cattelana, leggevo qua stamattina, era venduta a 120 mila dollari, opera simbolo della fiera dell'arte di Miami. Era buona, ha detto. Era buona, esatto. Facciamo così, era buona. Sono veramente discorsi troppo noiosi, no? No, vabbè, però perché il fatto che se ne parli forse rappresenta anche l'efficacia dell'opera. Certo, dell'opera, di tutta quanta l'azione. Di tutto quello che ruota intorno, no? La provocazione, le provocazioni che ci sono nell'arte contemporanea benvengano. Alle provocazioni, possiamo anche chiamarli pungoli, ok? Sollecitazione alle coscienze sopite. È vero. Che ne dici? È vero, basta andare a parlare di Fondazione Prada, basta andare a troppe ce ne sono. Esattamente, la stessa cosa che dico io. Bisogna saper guardare, l'importante è vedere, guardare, informarsi quanto più possibile e formare una propria coscienza critica, come per ogni cosa, d'altronde. Ma anche per l'arte, cioè cercare di vincere un po' le remore nei confronti dell'arte contemporanea e formarsi una propria coscienza critica, ma basata su dei dati reali. Con la coscienza critica, diciamo che si lavora meglio. Matilde, guarda, fai una trasmissione di arte e ti diamo uno spazio in radio, tanto tra i tanti impegni che se ne sarà uno in più. Dopo che ho lasciato le bimbe a scuola, vengo, faccio mezz'ora, faccio la... Oppure ti porti le bimbe qua. Anche no. Allora, grazie Matilde, grazie per essere stata con noi, ricordiamo allora questa mostra bellissima, l'ex chiesa di ogni santi, a fiorare, da vedere fino al 7 gennaio e puntini puntini, vedremo se ci sarà questa proroga. L'ingresso è libero ma su prenotazione, quindi informatevi sui vari canali, su Cronaca e Fermane, basta digitare nel motore di ricerca a fiorare, trovate il numero di telefono per prenotarvi, ma sfruttiamo questa bella occasione perché è un bel esempio che vede un'azienda del territorio proiettata nel mondo come la Savelli Ascensore, collaborare con la creatività, perché anche la tua come curatrice della mostra è una forma creativa. Sì, diciamo. Matilde Galletti, questo duo artistico, possiamo chiamarlo così, che si chiama, aspetta adesso, Ornaghi-Prestinari, quindi questi due giovani artisti, ma davvero già importanti e affermati nel panorama dell'arte contemporanea, le feste sono l'occasione per arricchirci anche da un punto di vista artistico, quindi benvenga, va bene. Matilde, grazie. Grazie mille. Com'è andata questo? Ti vedo molto... Benissimo. Quindi la radio ormai sei di casa. Guarda, molto volentieri, ti invito volentieri. Assolutamente. Grazie, ricordate questa mostra, poi adesso a breve pubblicheremo anche l'articolo sull'inaugurazione che c'è stata sabato scorso. Sì, è stata molto bella, è stata piena, pienissimo, pienissimo. Ve lo racconteremo, spero al meglio, va bene? Certo. Grazie Matilde, buona giornata e buone feste. Grazie a voi, a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco con gli ultimi 20 minuti, l'ultimo quarto d'ora di Diretta 1. Restate con noi. Grazie. 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 Grazie.